Nove liste civiche, 144 cittadini mesagnesi, di cui il 45% di donne, età media di 40 anni, con tanti giovanissimi impegnati in questa competizione elettorale, possiamo assolutamente dire che siamo soddisfatti. Abbiamo costruito liste che rappresentano tutte le categorie sociali e professionali, donne e uomini preparati ed entusiasti di collaborare alla rinascita di mesagne. E questo è l'obiettivo che ci siamo prefissati. Vogliamo ridare vita a questa città, vogliamo farla tornare ad essere la cittadina che è stata in passato, quindi punto di riferimento per il territorio. Ci sono tante potenzialità, possiamo farlo soltanto attraverso però un lavoro serio, con competenza e con buona volontà. Occorre che si lavori sodo e soltanto in questo modo potremo riuscire nell'intento. La nostra campagna elettorale proseguirà con alcuni appuntamenti a breve. Il 1 maggio, ad esempio, saremo presso la villa comunale per onorare la festa del lavoro e ci sarà tra noi l'assessore regionale Mino Borracino. Poi il 4 maggio, sabato 4 maggio, faremo la presentazione delle liste. Quindi renderemo noti tutti i nostri candidati e lo faremo in pubblica piazza attraverso un momento di confronto ulteriore. Siamo nel vivo della campagna elettorale e continueremo a spiegare ai cittadini quella che è la nostra idea di città. Con la consapevolezza che ascoltando i cittadini, parlando con i cittadini, probabilmente avremo anche molti suggerimenti di cui faremo tesoro e che proveremo ad applicare durante il nostro mandato di governo.